Che cerchi? Telefono? È un'ora che ti cerco, sai? Federica dov'è invece? No, cerco i documenti che ho dimenticato per la conferma del nido. Ti hanno perfino mandato una mail, ma tu te ne sei completamente disinteressato. Tanto a te che importa. E-mail? Quali mail? Io non ho ricevuto nessuna e-mail. Io ho fatto tutto quello che dovevo fare. Tu ti rendi conto, vero, che questa cosa è devastante per me? Un altro anno ferma, bloccata, senza neanche il tempo di pensare di poter ricominciare a lavorare seriamente. Dimmi che non è così, Alessandro. Nemmeno possiamo fare affidamento sui tuoi dopo quello che è successo. Calma, calma, ti ho detto che li ho consegnati, tranquilla, tranquilla. Troveremo un altro nido, non è una tragedia. No? No, tranquilla. Certo, tanto a te che cambia. Lo sai quanto è difficile trovare posto a questo punto dell'anno? E troveremo un'altra soluzione, qualcosa ci inventeremo. Mi ascolti piuttosto? Mi ascolti? Federica? Tu lo sai che ha deciso di lasciare l'università? Lo sai? Sì, me l'ha detto quando è tornata. E a me invece quando me lo dice? Prima o dopo di partire per questa missione umanitaria che sinceramente non ho capito neanche che è? Tu sei anche questo. Sai che sta buttando tutto al cesso per un colpo di testa? No, non è un colpo di testa. No. Ha sbagliato, ma non è facile parlare con te. No, e perché? Perché io dico le cose come stanno? Perché io mantengo le promesse. Ah sì, mantieni le promesse? E le promesse che hai fatto a me su Maria e sul nido? Non siamo tutti uguali, Alessandro. Non tutti sappiamo sempre cosa fare e come farlo, va bene? Tu hai bisogno di controllare tutto, non ti fidi delle scelte degli altri. Per questo non è facile parlare con te. Ma poi sbagli anche tu. Senti, facciamo finta che io mi sia dimenticato completamente di questo nido. Ma io dico, ma tu vuoi mettere veramente a confronto il fatto che nostra figlia ha deciso di farci stare in ansia per tutta la vita e di non avere uno straccio di futuro per i documenti del nido? Grazie a tutti.